Il commissario europeo all'agricoltura, sapete che fa parte dello stesso partito europeo di Fratelli d'Italia, di cui fa parte Giorgia Meloni, di cui Giorgia Meloni è stata presidente, i conservatori e i riformisti europei, sono proprio loro insieme al Partito Popolare Europeo, quello di cui fa parte Forza Italia, che hanno gestito tutta la politica europea sull'agricoltura, la stessa politica che oggi gli agricoltori stanno contestando, beccato che la Meloni invece che chiedere scusa, assumendosi la responsabilità di scelte che hanno fatti arrabbiare, li hanno danneggiati questi agricoltori, dica di essere dalla parte degli agricoltori, che in pratica è dire sono contro me stessa, ma però cerco di non farlo sapere, ebbene quella che vi ho appena detto è l'esatta verità, e se volete fate pure una ricerchina, vedrete che ho ragione.